Lunedì mattina eccoci alla stazione di Andria alle mie spalle, qui sono riprese le corse da Andria verso Barletta sulla tratta tra Barletta e Andria e poi dopo aver preso il treno in questa tratta i passeggeri devono prendere il bus che porta a Corato, poi da Corato nuovamente sul treno che porta naturalmente fino a Bari. C'è naturalmente un po' di disorientamento anche da parte dei cittadini e dei passeggeri che comunque questa mattina affollano la stazione Bari Nord.